Ciao, mi chiamo Fustorino Valeria, ho 18 anni, vengo da Piacenza. Il mio brano, che si intitola Mi rialzerò, parla di un momento un po' difficile da mia vita, però come dice lo stesso brano, io sto cercando di rialzarmi e sono sicura che ce la farò. Io dovrò aspettare, quanti sogni non dovrò realizzare, no, non aspetterò, senza di te io cambierò. Ho deciso di partecipare a questo concorso perché avevo già partecipato due anni fa con una canzone non mia, ma quest'anno avendo scritto una mia canzone ho voluto fare questa esperienza di nuovo. Grazie.